La epicasa Brindisi vince anche gara 3 con l'Allianz Trieste 79-77 e si aggiudica uno storico passaggio alla semifinale Scudetto. Rispetto alle due precedenti partite, la squadra di coach Frank Vitucci soffre leggermente ma conduce per gran parte del match. Il vantaggio dei Giuliani solo dopo due minuti e mezzo del secondo quarto, 27-26. Poi Brindisi fa la voce grossa. Il primo tempino vede partire bene i pugliesi che sfruttano le giocate in velocità di Willis, che ha un certo fiuto verso il ferro, segna da 3 e dal perimetro, ma anche Perkins fa il suo facendo impazzire prima Delea e poi Upson. Più 8 New Basket alla prima sirena, 25-17. Nella seconda frazione Trieste sembra crederci spinta da Doyle dalla mano calda, supportato da Henry, ma è solo un'illusione. Perkins continua a far sentire i muscoli e il peso sotto i tabelloni e alla pausa lunga la epicasa detta ancora legge andando a riposo lungo con 6 punti di vantaggio, 47-41. Nella ripresa regna l'equilibrio con i biancazzurri che mettono sempre il naso avanti. Brindisi gioca in velocità con le invenzioni di Thompson e le conclusioni di Bostick. Harrison ha le polveri bagnate, ma coach Vitucci pesca sempre il giocatore giusto dalla panchina. Al trentesimo è più 4 epicasa, 63-59. Nell'ultima frazione l'Allianz continua ad inseguire. Doyle prende per mano Trieste ed è botta in risposta con Brindisi che non concede il sorpasso. Cavaliero è l'ultimo a mollare col canestro del meno 2. Qualche giorno di riposo, soprattutto mentale, per Zanelli e compagni che in semifinale troveranno la Virtus Bologna che ha eliminato con non poca fatica la De Longhi Treviso.